Salve a tutti ragazzi e bentornati nuovamente a questo mio canale, come potete vedere siamo tornati con GranTorismo7 Ho da poco finito di registrare il video dedicato all'aggiornamento 1.13 Mi raccomando andatevelo a recuperare perché hanno aggiunto diverse gare per quanto riguarda il tracciato di Spa e 3 nuovi modelli di auto Allora quest'oggi ci troviamo nuovamente nella modalità circuiti mondiali Andiamo in Europa perché dovevamo fare l'ultima gara per quanto riguarda Le Mans World Touring Car 700 e tra l'altro visto che non sono i classici 10 giri ma 30 minuti di gara di resistenza Per questa prova ho deciso di recuperare la Viper Gruppo 4 che avevo già guidato in un video ma mi ero accorto che non andava bene per una certa pista Qui in teoria non dovremmo avere problemi, ho allungato anche un po' i rapporti Adesso io comunque vi faccio vedere la livrea che ho deciso di equipaggiare su quest'auto perché richiama un po' diciamo i vecchi GranTorismo Ok questa qui è l'auto dai non è male come livrea c'è anche i fari gialli come i vecchi GranTorismo Per quanto riguarda il setup invece allora direi che possiamo partire con le gomme da corsa medie Ho aggiunto il rapporto del cambio personalizzabile da corsa di base parte a 270 l'ho messo a 300 km l'hari visto che ci sono i rettilinei Per quanto riguarda invece l'unica modifica che ci permetterà di andare più forte è il compressore volumetrico Perché ho deciso di tenere sempre la difficoltà settata su difficile però naturalmente ci viene in aiuto la sovralimentazione coppia ad alto regime Che come potete vedere aumenta di circa 115 CV quindi ci aiuterà non poco Quindi nulla a parte questa modifica e il rapporto del cambio non abbiamo modificato nient'altro Io comunque nel dubbio vado a ricontrollare ma dovremmo essere già su difficile ok Allora dirigiamoci subito su questa gara perché saranno 30 minuti di fuoco spero di farla subito al primo tentativo Perché se no è una gara che mi andrà a portare via molto tempo Noi comunque partiamo con le medie e niente vediamo come andrà Ok proviamo prima cosa da capire quanti giri riusciamo a fare Tenendo la benzina su potenza vediamo un po' Non mi ricordo neanche come si guida quest'auto Oddio un po' di sottosterzo ce l'ha eh Anche se continuo a dire che secondo me guidare auto GT4 su una pista del genere è abbastanza noioso Vediamo se mi sorprenderà questa gara Dai sul dritto avremo un bel po' no? Una cazzo di Viper Con la sovralimentazione, regimi elevati Facciamo giri restanti 2.9 Oddio però in 30 minuti di Le Mans Proviamo a risparmiare un po' Proviamo su 4 Rapporto marcia ho messo 300 km orari Direi che con la scia vanno più che bene Non frena un cazzo Staccato prima di BMW Non ha frenato un cazzo Scusami Ci sono anche i danni eh E' prevista pioggia No qui dice di no Vabbè teniamo radar 10 secondi di distacco E dai siamo partiti abbastanza vicini allora Ho staccato prima Non c'è mai la via di mezzo Ho staccato prima di Ho staccato prima di Ho staccato prima di Beh dai poteva andare peggio Tecnicamente dovrebbero esserci le penalità Vabbè vediamo Prima o poi una penalità alle mani La becchie Con Con gli allunghi sicuro Ma secondo me ci sono eh Siamo già ottavi Non è qui Allora è tutta questione di strategia eh Per essere già così vicini Ok abbiamo il classico sistema di penalità Allora ci sono Ci sono ci sono Oddio Non saranno mai Settati su Su grave Come Nelle Nella pista Lì per farmare i crediti La ogni impatto sono 5 secondi Cazzo Ho capito Metti il radar Allora ci sono Oh Buono 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 Bella sta traiettoria Occhio Lexus Cazzo Cazzo In In questa Viper Anzi in realtà In tutte le Viper Hai Pochissima visibilità Da dentro la macchina eh Porca puttana Te credo poi che non le usa nessuno Occhio eh Che se la allunghi ti dà penalità È prevista pioggia Per ora dice Oddio Continua a dire di no Però 30 minuti alle manna Ma mi sembra strano eh Boh Oddio Spero di no eh L'ultima volta che ha piovuto alle manna Eravamo Nelle mission challenge Se vi ricordate Con la 919 hybrid Porsche Non abbiamo azzeccato Manco una staccata Con la pioggia Completamente Inguidabile Cioè siamo noi che non siamo capaci L'auto si guidava bene Vedete comunque Una gara GT4 Come è noiosa Su una pista come le manna Qua devi andarci Con auto che vanno Tipo gruppo CLMP1 Qua ti diverte a gogo Stiamo recuperando Sui primi Sì Pochissimo Ma sì Devo ricordarmi Sì ormai sono passati Più di 50 episodi Di Nascondere i nomi Lì nella classifica Perché tanto a me Ne frega un cazzo Quello si chiama Blajane Nell'altro si chiama Mendoza Piuttosto Preferisco vedere Che auto stanno utilizzando Non so se ve lo metterò ragazzi Replay Esterno Sono 30 minuti di gara Sovrapporci 30 minuti di replay E' come se vi pubblicassi Un video da un'ora Mi sa che qua ne facciamo a meno Purtroppo i pezzi Il nuovo pc ancora non mi sono arrivati Eh vabbè Oh se il nuovo pc ci mette veramente così poco a renderizzare i video Ci metto più cose eh Tipo anche più Più riprese Volevo aggiungere una seconda cam che punta sul volante Tanto il pc Il pc è potente raga Quindi in teoria dovrei riuscire a fare cose del genere Anche per abbellire i video Certo ti richiede molto più tempo eh Tempo che non ho Quello si Però ci possiamo provare Minchia corvette Quanto cazzo vai piano eh Abbiamo ancora due giri Aspetta risparmiamo un pochettino ancora Così riusciamo a fare due giri completi Siamo a 1 in 9 E il traguardo ancora non l'abbiamo raggiunto Giro veloce L'ha fatto Portiglia Mammo No Lo battiamo Sì 4.18 Tempo scandaloso Va bene Comunque difficoltà difficile eh Ricordo E Sta andando per ora Secondo me c'è qualcosa sotto Io qua prevedo una tempesta di quelle tropicalie Guardate come No vabbè oddio Non è tanto nuvoloso Forse sarà più facile del previsto Speriamo 30 minuti di gara Non è che mi va di rifare Lì Sette decimi Tacci tua Ma dite che le Gomme che stiamo utilizzando Vanno bene per un altro giro Dopo questo Minchia l'abbiamo quasi demolita Abbiamo Giro restanti 1.8 Io vorrei Eccola qua la pioggia Io vorrei Riuscire a sfruttare Tutta la benzina E a bruciare Questo treno di gomme Occhia la staccata Cosa? Ma che penalità raga? Io ve l'ho detto Le mani in maledetto Con le penalità Non mi sembra Di aver tagliato Cosa ho detto Io a proposito Di tempeste tropicali Vabbè mezzo secondo Dai non è un cazzo Ok quando si guarda Alla radar Bisogna anche Vabbè voi non lo vedete C'è la webcam Sotto la minimappa In alto a destra Del tracciato Dovete vedere La direzione Della freccia Che vi dice Dove si sposterà La nube d'acqua Quindi la pioggia Dovrebbe essere Già passata Tecnicamente Benzina come si è ammessi 1.5 Eh però le gomme Dietro non mi piacciono Ok Ok qui si riscattano Le penalità Mezzo secondo Maledetto Che poi Non è mezzo secondo Che non ti fa Premere l'acceleratore È mezzo secondo Che poi frena Eh frena proprio Il gioco Occhio qui Perché ma l'asfalto È bagnato Oddio In realtà La barra lì Dice di no Minchia quanto devi dosare Qua eh Capisci che è uscito Un aggiornamento Di gran turismo E hai pubblicato Un video Quando Lo schermo del cellulare Continua ad accendersi Per le notifiche Dei commenti Si sono fermati Tutti E montavano Le dure Sa che ci conveniva Uscire Perché noi adesso Stiamo andando Con Economica Vogliamo andare Su quattro Proviamo E le gomme Minchia Sono sfondate Tutti le dure Raga Tutti No Qualcuno Ha le morbide Non tagliare Non tagliare Che ti da penalità Non ci provare In teoria Eravamo sul cordolo Qualcuno montava Anche le medie Ok Non mi sento più In colpa Sono sicuro Che prima o poi Arriverà L'aggiornamento Iniziano a pubblicare Gare Tipo questa Dedicata al gruppo 1 Minchia raga Non vedo l'ora Là ci spacchiamo Oddio Con il feedback Di sto volante Sia che dopo Due giri Qui alle manne Di gruppo C Abbiamo bruciato Il motore Allora abbiamo Giri restanti 1 e 1 Quindi provo ad andare Un pochino su potenza Tipo potenza 3 Non esageriamo Perché varia di tanto Poi Eh Eh so le gomme Quanto mi da di penalità Oh magari non ci da nulla Tutti zitti Forse non ci da nulla Eh Vabbè se non ci ha dato nulla Vuol dire che non abbiamo recuperato Sto gioco Una cosa la riesce a fare Ad essere stronzo State sicuri Le gomme Le gomme Le gomme E io non so staccare Su sta pista Ok siamo a metà gara Allora direi che Non ci ha dato penalità Non ci ha dato penalità Minchia Ne abbiamo persi Abbiamo perso quasi 4 secondi Che cazzo di penalità Doveva darti Pioggia Sto frenando Sta sottosterzando E non ha grippe Nelle percorrenze Ci manca solo Guarda che Che boh Eh però se metto le morbide Le sfondo prima Aspetta Aspetta Risparmia un po' Perché vedo che siamo a 0-3 E devo mettere le dure Raga Girerò un po' più lento Però sono sicuro Che mi tengono di più C'è una idea C'è anche da dire Che non siamo a un quarto D'ora di gara Ma già a 13 minuti E ora che esco dal pit Scendiamo a 12 Non tiene più raga No Rimetto le medie Rimetto le medie Dai No è rischioso No le morbide Assolutissimamente no Minchia manco nei box Frena Eeeh Vogliamo rischiare Gomme morbide No non rischiamo Vai di medie Mi bastano Eeeh Mi basta benzina Per tre giri Ah ok si è fermato Qualcun altro Quindi loro un altro pit Lo fanno Ma quanto cazzo Ci vuole raga Da arrivare alla fermata Ma va che incredibile No loro un altro pit Lo fanno sicuramente Quindi cerchiamo Di non sbagliare Riforniamo per Tre giri e mezzo Dai Teniamoci larghi Sì Facciamo tre giri e mezzo Perché non vorrei che mi Bugga il contatore Perché Non ho switchato subito Su potenza 3-7 E tagliamo la testa Tutto su potenza Andiamo eh Ah ok c'è già Comunque rinnovo L'invito Non mi piace Come auto Però Giustamente Se non le provi Non lo puoi sapere Mezzo secondo Per che cosa? Non ti dice neanche che cosa Ma scrivilo sotto No? Contatto barriera Mamma puttana Scrivilo Forse per contatto Ma ne dubito Eh Ho staccato Tarde Ragazzi Qua la penalità Me la dà sì Raga Non riesco Proprio a Memorizzare Minchia Pure là Pure buono è stato È ammalato Solo mezzo secondo Raga Non riesco proprio A memorizzare Le staccate io Con ste auto Ma ci avete fatto caso? Minchia Dopo 5 giri Cazzo Uno dice Oh ok Devo staccare là Devo staccare lì Non riesco proprio A memorizzare Anche qua Arrivo sempre un po' lungo Arrivo Almeno questa L'abbiamo fatta Ah Comunque con l'ultimo Aggiornamento Ancora non hanno messo Che si possono vendere Le auto Strano Avevano detto Che l'avrebbero aggiunto Eh Sto secondo Pesa Ciao Buongiorno Grazie a tutti. Eh, abbiamo il secondino. Tanto quello davanti si ferma, raga. Quello davanti si ferma per forza. Siamo a otto minuti di gara, quindi vuol dire che altri due giri più o meno ci escono. Quello non ce la fa reggere. Oddio, lo spero. Sparmiamo un po', va? Sparmiamo un po' più o meno ci escono. Sparmiamo un po' di benzina. Abbiamo due e tre. Andiamo su uno. Andiamo un po'. Ho esagerato, sono arrivato troppo veloce. Sicuramente mi dà una penalità. Minchia! Un secondo e mezzo. Ma vabbè, cazzo di fa... Mirce incontra... ... ... Grazie a tutti. Non mi dà penalità per il contatto, no? No. Eh, cazzo, un secondo e mezzo è... È un po'... Che poi sai qual è il discorso? Te lo metti subito in uscita da quella curva. Ma io non so i nomi. Quindi arrivi già lento di tu, ho capito? E perdi di più nella ripartenza. Almeno questo è quello che penso io. Cerchiamo di fare giù sta staccata. Provo a frenare un pochettino, magari non mi dà penalità. Raga, la sto sbagliando da inizio gara quella cazzo di curva, eh. Da inizio gara che la sto sbagliando. Non male che con le gara alle manna abbiamo finito, con le gruppo 4. Non ce n'è più. Le abbiamo già fatti tutte. Basta, cioè, giuro, io non voglio più vedere gruppo 4, gruppo 3 sulle manna. Se c'è qualche gruppo ci dà guidare, mi fanno squillo sul telefonino. Allora ti dico, ok. Adesso ci dà penalità pure qua. Abbiamo oltrepassato la linea bianca. Andiamo su, su 2 va. Come mai i giri restanti ci dà 1 e 4, scusami? Dovremmo starci giusti con 2 giri. Andiamo su 3, eh. No, andiamo su economica. Che cazzo è successo, raga? Siamo a 1 e 3. Dobbiamo fare ancora tutta quella sezione. Seconda e mezzo. Tacci loro. E' tanto, raga, eh. Giuro che sto calcolo di benzina non l'ho capito. Avrei dovuto poter fare due giri giusti giusti. Sono già 1 e 2. Sono uscito dai box che avevo la mappatura su potenza, eh. Quindi i calcoli sono quelli. Stabilità, guarda, di una nave. Ok, si è fermato di nuovo. Però, oddio, deve fare un giro, eh. Può uscire subito. Veramente strano, comunque, eh. Che ha difficoltà difficile. Oddio, a meno che non sbagliamo. Sbagliamo e vinta. Veramente strano, però. Sia stato così facile. Ah, una cosa è certa. Quest'auto non la guiderò mai più, eh. Sperò che la controparte di GT3 si guidi meglio. Due montavano le morbide, vedete? Yamanaka e Kevelam. Strano che sono rimasti dietro. C'è da dire, però, che le consumi tanto le morbide. Perché, comunque, noi abbiamo fatto due pit. E le medie le dovevi cambiare per forza perché non tenevano più. Se usi le morbide, ne devi fare pure tre. Eh, raga, quando parli alla guida. Scusate, ero convinto di essere su Le Man senza Shikana. Un secondo e nove perso, non ci darà mai penalità. Dai, su. Onesto. Andiamo su potenza uno. No, è troppo. Siamo su tre. Ragazzi, io la gara ve la lascio integrale, eh. Anche se, comunque, diciamocelo, è stata abbastanza, abbastanza soporifera. Ma non credo sarebbe cambiato molto, anche se non avessi messo la sovralimentazione a regimi elevati. Sì, ok, ti dà 120 cavalli. Avresti fatto sicuramente un po' più di fatica a vincerla, ma non credo. Avremmo visto dei combattimenti, eh. Vabbè, voi, come al solito, tenetemi aggiornato su come avete fatto questa gara, che auto avete usato. Vi chiedo sempre anche la visuale, gomme, periferica. Fatemelo sapere. Secondo me, sarebbe stata leggermente più difficile, perché comunque sono 32 secondi, eh. Ci avremmo messo un po' di più. Ma secondo me, se non sbagli, e di sbagli ne abbiamo fatti tanti sta gara. E comunque abbiamo quel distacco, l'avremmo vinta comunque. Veramente strano, difficoltà difficile, eh. Volte gare, mettevi difficoltà difficile, non sbagliavi mai, minchia, non arrivavi manco sesto. E sicuramente si guidava meglio di come abbiamo fatto noi oggi con questa Viper Aleman, eh. Guarda qua quanto stacchiamo. No, il replay non ve lo metto. Ok, comunque i calcoli di benzina erano giusti, eh. Cioè nel senso, ultimo giro. Ok, il timer si scurisce e non scompare. Cazzo, ho colpito il muro. No, no. Cosa ho fatto di diverso da prima? Non lo so, glielo chiederemo a Yamahuchi. Non hai finito di fare la trottola, me lo dici? Boh, che consiglio vi devo dare di stare alla larga da questa macchina? Ve l'ho già detto cento volte. Raga, non la comprate. Cioè, proprio parere personale non ne vale la pena. Giustamente uno le cose prima le deve provare e poi dalle proprie opinioni. Io vi consiglio di stare alla larga. 825.000. Ecco, questa qui è la cifra che prendo io in meno di 20 minuti usando il glitch con la Tomahawk. Qui ce l'ha dati in mezz'ora. Ecco, vedi, sui replay nuovi lo puoi fare. Salti di un giro. Eh, su quelli vecchi però non me lo faceva fare. Io il video l'ho registrato oggi e ho provato su un replay già fatto. Va bene. Comunque si può fare. Meno male, raga. A parte questo, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Non è stato granché, eh. È stata abbastanza noiosetta come gara, però, wey, le dobbiamo completare tutte. E voi con i numerosi aggiornamenti che arriveranno, di cose da fare, ce n'è. Questa qui è comunque la gara che vi dicevo che hanno aggiunto. 800 punti di prestazioni, 60 minuti. Un milione di crediti, però, vabbè, 60 minuti. Nulla che dire. Io, come sempre, vi ringrazio per il supporto. Vi do appuntamento a un prossimo episodio di Gran Turismo 7. Alla prossima. Alla prossima.